Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di risultati dei miei clienti. Allora in particolare oggi voglio parlarvi di Enrico. Enrico ragazzi si occupa di strumentazione tecnica per studi tecnici che lavorano nel mondo dell'edilizia. Ok? Che mi manda questo messaggio. Ciao Giuliano, la scorsa settimana ho venduto 45 mila euro. Le provvigioni cominciano a maturare. Quello era il messaggio che mi aveva mandato qualche tempo fa. Mi ha mandato i primi del mese un altro messaggio che è Buongiorno ragazzi, volevo dare un piccolo aggiornamento dei miei progressi. Negli ultimi 45 giorni ho venduto 60 mila euro di strumentazione. Grazie ad una qualifica clienti approfondita sono riuscito ad andare dritto dai compratori. Sto migliorando anche la chiusura nel risolvere le obiezioni. La domanda magica è c'è altro che dobbiamo vedere prima di procedere? Minchia funziona troppo. Grazie Giuliano e grazie al tuo team. Un grazie anche a voi ragazzi di Imprenditori in Azione. Anche se non ci vediamo mi spronate a fare meglio lasciando anche belle pelle messaggiando in questo gruppo a presto. Allora ragazzi giusto per dirvi com'è che si ottengono questi risultati? Allora questi risultati si ottengono bruciando le tappe. Cosa vuol dire bruciare le tappe? Enrico è un mio studente che è venuto alla Sales Master University e anche uno studente che si è iscritto a Imprenditori in Azione. Sì perché devi sapere che chi si iscrive a Imprenditori in Azione poi viene inserito all'interno di un gruppo Telegram che si chiama Sales Mastery dove sostanzialmente si condividono i successi, si condividono le chiusure, si fanno domande, ci si aiuta. E la domanda che ti devi fare è come faccio a raggiungere quell'obiettivo prima possibile? Devi andare da chi l'ha raggiunto prima di te che ti spiega esattamente quello che ha fatto. Ok? Quindi questo è il consiglio di oggi. Bravo Enrico, ci vediamo la prossima volta a Imprenditori in Azione. Bene, per il momento è tutto. Se anche tu vuoi aumentare le tue vinte del 500% come ha fatto Enrico sai dove trovare. Ciao! Ciao!